L'Eroi Merlin offre due casette da giardino scontate, ideali per riporre attrezzi e mantenere l'ordine negli spazi esterni. La prima casetta di 1,33 terremiti e con porta battente semplice è perfetta anche per giardini piccoli ed è in vendita a 299 euro, disponibilità 100 pezzi. La seconda casetta 2,81 mm ha una porta doppia, ideale per conservare anche oggetti grandi e disponibile a 549 euro, disponibilità 50 pezzi. Entrambe le casette resistenti agli agenti atmosferici includono fori di ventilazione, pavimentazione e chiusura lucchettabile per la massima sicurezza.